I televisori Panasonic della serie AS600 sono Smart TV dotate di pannello LED Full HD. Il design è elegantissimo e finemente progettato. Lo chassis è impreziosito da un piedistallo dalle forme minimal che donerà un tocco di raffinatezza al vostro soggiorno. Il retro del TV è come al solito dedicato alle porte di comunicazione. Ingressi ed uscite sono numerosi e consentono di interfacciare facilmente ed in modo intuitivo il dispositivo con apparati esterni. Panasonic AS600 è dotato di un pannello Clear Panel LCD a LED Full HD capace di regalarvi una qualità di immagine eccellente in ogni condizione. La ricchezza dei dettagli è esaltata dalle tecnologie implementate. Il dispositivo infatti integra un potente processore dual core a cui si aggiungono la retroilluminazione Black Light Blanking a 100 Hz e la tecnologia Content Optimizer. Questo TV vi regalerà un'esperienza di intrattenimento come al cinema. Questo grazie alla performance del pannello ma anche al fantastico sistema audio con Dolby ed ETS per coinvolgervi fino all'ultimo secondo durante la visione dei film. Davvero tante sono le funzionalità rese disponibili da Panasonic per questa serie di TV. Le tecnologie Wi-Fi e DLNA integrate vi permetteranno di navigare nel web e di accedere ad un numero sempre crescente di app internet. L'innovativa interfaccia MyStream attribuisce un significato completamente nuovo all'utilizzo di un televisore. Tramite la app Panasonic TV Remote 2 e il nuovo tasto My Button posto sul telecomando touchpad del televisore potrete creare un vostro profilo esclusivo impostando i contenuti che preferite. L'interfaccia MyStream illustrerà inoltre contenuti registrati, vostre riprese video, foto di famiglia, pagine web e video in rete. La funzione di riconoscimento vocale Voice Assistant disponibile sul telecomando touchpad e sull'app Panasonic TV Remote 2 è in grado di identificare quale membro della famiglia stia utilizzando il televisore e richiamare automaticamente il suo profilo MyStream. Panasonic AS600 è un dispositivo davvero innovativo, un acquisto intelligente per chi ama l'intrattenimento e non vuole rinunciare a nulla.